Buon polarizio a tutti. Buon polarizio a tutti. Buon polarizio a tutti. I sensi sono almeno due in più e mi riferisco soprattutto a quello dell'immaginazione, cioè il bambino vive con l'immaginazione. L'immaginazione è la possibilità di giocare, la possibilità di difendersi dal mondo degli adulti, la possibilità a volte di immaginare anche una strada, una salvezza. Se penso al film di Bergman, Fanny Alexander, il ragazzino si salva, immagina di far bruciare il padrino e il padrino brucia. Dico questo perché io sono sempre una persona con un'immaginazione molto forte, una bambina che comunque mi sembrava di vedere il diavolo, oppure che mio fratello diceva c'è una madonna in bagno, non entravo in bagno per due anni. E quindi, come dire, ho vissuto con questo sentimento, ma ho vissuto con solitudine. Tanto che mi ricordo che una volta che ho visto una gallina chiudere l'occhio al contrario, sono stata terrorizzata. Ho detto, non l'ho detto a nessuno, perché ho detto ho un'allucinazione e l'immaginazione si sta prendendo la mia realtà. Ed ero ammutolita. In realtà, scusatemi. In realtà, dopo due giorni ho capito che la gallina chiude l'occhio al contrario e quindi mi sono, come dire, rassicurata. Questo per dire che i sensi, a mio avviso, non sono cinque, ma ne sono sei o sette, anzi sette. L'immaginazione è che il bambino nasce, si sviluppa, cresce, si difende, ma il mondo degli adulti, il mondo esterno, in qualche modo l'obbliga a mettere questo giocattolo dentro un soffitto, una soffitta. E l'istinto? L'istinto che rimane soltanto quello di cadere e non farsi male. Io personalmente sono una persona che quando cade si fa sempre male. Questo anche per dire che questi sensi sono personali. C'è qualcuno che ne ha uno più sviluppato, uno meno sviluppato. Quindi, partendo dal fatto che i sensi sono sette e non cinque, e che questi due sono fondamentali, sono fondamentali anche non... cioè dargli una quotidianità, farli crescere insieme a noi. E l'intuizione dove arriva? L'intuizione in realtà è proprio l'unione di questi due sensi, cioè da una parte dell'immaginario e dall'altra parte dell'istinto. L'intuizione è quasi un'elaborazione, è quasi una voglia da grandi di conservare questi due giocattoli, di non metterli lontani, e di creare, voglio dire, un ponte importantissimo tra quello che è il nostro interno e quello che è il nostro esterno. Cioè, è un'elaborazione, è comunque la voglia di prendere dall'esterno, rielaborare in maniera assolutamente istintiva, e avere non una soluzione, ma un'intuizione. Mi spiego meglio. Nel corso del tempo io poi, un po' casualmente, un po' perché forse ho seguito il mio istinto, mi sono trovata a lavorare con la creatività. E la creatività è proprio... è proprio... come dire... è uno strumento intuitivo, è uno strumento che non nasce con delle regole razionali o empiche. ma è proprio quel desiderio, quella volontà che dall'interno va verso l'esterno. Insomma, l'intuizione viene percepita come un lampo di genio, come qualcosa che ti arriva addosso, ma nessuno, neanche i più grandi, neanche Archimedele, in realtà lavoravano sull'intuizione. era un modo di ascoltare, di mettere in contatto l'interno con l'esterno. Diciamo che nel campo artistico io identifico, ma non solo io, l'intuizione con la poetica. Immaginiamo una clessidra, e ritorniamo quindi all'inizio. L'essere umano prende dall'esterno, prende dall'esterno in una maniera intuitiva. L'intuizione è la capacità di prendere dei dettagli, dell'aria. Cioè, quando si dice ha avuto l'intuizione, è un'intuizione che nasce dal comportamento, che nasce da come i tuoi sensi percepiscono l'esterno. viene introiettata dentro, dentro ti fa, come dire, elabori un tuo mondo personale, unico, e a quel punto lì, l'idea di ridarlo con degli strumenti realistici, con un'oggettivazione che è l'arte, non so come dire, lo si dà tramite l'immaginazione. Quindi quei due elementi iniziali, che sono l'istinto e l'immaginazione, in realtà nella sintesi diventano, come dire, un percorso immaginario di andare avanti e indietro tra un mondo oggettivo e un mondo soggettivo, il che è la chiusura del cerchio. Non so come dire. È una cosa molto piacevole. Io però ho pensato anche a un'intuizione, quando parlo di un'intuizione, un lato A e un lato B, un'intuizione primaria e un'intuizione secondaria. Perdonatemi, io devo bere molto. Cioè, se l'intuizione primaria corrisponde, come dire, al mondo poetico, non vorrei scomodare Chaplin, piuttosto che Pasolini, perché poi questo mondo poetico deve trovare forma e deve trovare forma in una comunicazione, perché è quello la bellezza e che l'immaginario è per l'essere umano come una macchina del tempo che ci permette di andare avanti e indietro e creare un altro tempo. Quindi se c'è da una parte il mondo poetico, un immaginario primario, io ho immaginato anche un lato B, diciamo, di questo immaginario. Ho detto all'inizio che sono stata molto fortunata, io il cinema, diciamo, non è che l'ho cercato, mi è venuto un po' addosso, come un po' mi è venuto addosso tutta la vita. Cioè nel senso che mi capita una cosa, la faccio, come dire, mi capita di parlare dell'intuizione, sento che la cosa mi può arricchire, mi può dare curiosità, che mi può far creare questo meccanismo tra interno e esterno e dico sì, sono qua e mi ci metto a pensare. Così col cinema. Io non è che ho deciso come appunto si fa dopo faccio il cinema. Il cinema mi è finito addosso, ma è veramente quel tipo di arte che più, insomma, io credo che sia stato un incontro molto fortunato e se questo incontro c'è stato, c'è stato grazie comunque all'intuizione di sentire che quella era una strada giusta. perché quando prima si parlava appunto delle scelte, come l'intuizione è anche e soprattutto scelta, una scelta che non deve essere una scelta razionale, empirica, ma una scelta che non fa tradire se stessi, che ti mette in ascolto. Ecco, allora il cinema ha questa caratteristica che è l'unica forma di arte, l'unica, che è collettiva, dove l'artista non è solo. Perché se noi pensiamo al mondo poetico e ad un artista, pensiamo come una persona che ha un mondo interno, una profondità, a volte bella, brutta, che ha il bisogno e la voglia di trovare una forma, una comunicazione. Esattamente il processo inverso, che dall'interno va verso l'esterno. Ed è un processo che non può passare attraverso le regole della ragione. Assolutamente. Cioè nel senso che il processo creativo è una cosa anzi che ti mette in allenamento l'intuizione, perché tu sai, se io penso il mio primo film, il mio primo film era la voglia di una ragazzina, io, di ribellarmi alla vita, come dire, alla vita segnata, a quello che dovevo diventare grande, a quelle tappe conosciute. E io ero lì che avevo capito qual era la mia intuizione, la mia intuizione, ma gli dovevo dare forma. E la forma in realtà l'hanno trovato negli anziani di 60 anni, cioè in realtà in qualcosa che è diverso, è molto diverso da me. ritornando al cinema, il cinema invece è un'arte collettiva che ti permette non solo di parlare di un'intuizione primaria, ma ti permette di lavorare con un'equip di persone, con una collettività, rispetto a una visione interna, rispetto a una sensibilità, rispetto a uno spirito, cioè di voler dare corpo tramite un'immagine che è fatta di scenografia, costumi, e quindi sono tante persone, tante tante creatività che si uniscono insieme e anche nella scelta di un vestito, nella scelta che rappresentazione, cioè che e ci vuole un'intuizione giornaliera, quotidiana. Un'intuizione che è fatta in un film storico, dove io partivo dal fatto che ripercorrevo la storia della protagonista attraverso l'idea che negli ultimi minuti della vita uno rivive la propria esistenza. Allora, a questo punto, quindi era un andare avanti e indietro, era molto costoso e la costumista mi ha detto Antoinetta vogliamo fare solo due costumi? Io ho detto no, facciamo un unico costume. Perché ho sentito subito che c'era qualcosa di molto interessante in quello che diceva. L'intuizione di averla ascoltata è un'intuizione che nasce da una collaborazione, fa sì che anche l'estetica di quel film ne ha guadagnato, perché non c'era un andare avanti e indietro, un cambiare, si poteva, ed è proprio lì che le intuizioni, cioè, voglio dire, funzionano quando sia il mondo interno che il mondo esterno, sia le regole empiriche, sia quelle profonde che non sono conosciute e trovano un tutt'uno. Quello che devo al cinema è proprio la capacità di capire che, come dire, l'intuizione, l'immaginazione, l'istinto sono dei sentimenti, sono dei sensi, delle capacità che non vanno messe nel soffitto, vanno usate, vanno usate anche giornalmente, anche per la vita quotidiana. E io questo credo che lo devo in una maniera, proprio al cinema, cioè, io ero una bambina piena di immaginazione, piena di sensibilità e avevo paura di tutto ciò. Il cinema e l'arte, invece, ha trovato la capacità di non reprimere tutto questo, ma di alimentare un'intuizione, un'intuizione quotidiana che io vivo anche giorno per giorno e che, secondo me, tutti i bambini dovrebbero tenerselo non troppo grande, non troppo piccolo, accanto agli altri cinque sensi. In realtà, ce ne sono sette e, secondo me, con l'intuizione, sono otto. Applausi Grazie. Applausi Grazie. Applausi Grazie. Applausi Grazie. Grazie. Applausi Grazie.